Entro la fine della settimana la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese dovrebbe nominare la nuova giunta per poi annunciarla nella prossima. Secondo le prime indiscrezioni sarebbe Assessore Gianluca Di Giovanni, ex segretario di Etica, con deleghe inerenti le partecipate ed ambiente. Altra nomina per il capogruppo di Etica Pietro Cerullo, che si dovrebbe occupare di lavori pubblici e di sport. Terza delega per Valerio Longo, capogruppo forzista con le politiche sociali. La prima cittadina terrebbe per sé altre due deleghe, quindi insieme a loro ci sarebbero i riconfermati Assessori Stefania Vecchio, urbanistica legalità, lasciando l'ambiente, e Maria Catarozzo con il bilancio. Altri due posti sono vuoti. Si verificano le ipotesi che potrebbero avanzare Rossella Speranza ed Alfonso Baldi.